Allora, auguro a tutti di arrivare a 80 anni, soprattutto di buona salute, soprattutto prendendo la vita con molta tranquillità, leggerezza e serenità. E noi faremo di tutto per impegnarci. Ci proviamo, lo facciamo per te. Allora, appuntamento qui per i prossimi 90 anni, noi l'augurio di altri 80 anni. Quando non vengono più i 90, non lo si sa, se è uno certo, noi ci diamo appuntamento qua. Mi dai quella fetta lì? Salute, auguri! Auguri!